Nella giornata dedicata alla lotta contro ogni forma di terrorismo che ha visto la deposizione di una corona in memoria dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani, si è tenuta anche la conferenza organizzata da Noi con Francesco, in cui la sfera socio-economica è stata elemento centrale. Uno sguardo approfondito proprio alle contingenze economiche e sociali del nostro paese e la volontà di darsi da fare per contrastare quelle che sono le maggiori problematiche ad esse connesse. Questi presupposti con i quali si è venuta a creare Noi con Francesco, rete trasversale di associazioni che proprio dalle parole e dai moniti del Pontefice prende spunto ed intraprende la sua azione. A raccontare più dettagliatamente questo progetto è il dottor Giovanni Paolo Azzaro. Noi con Francesco ha come scopo quello di recepire le provocazioni e le sollecitazioni che Papa Francesco in questi anni sta lanciando. Non lasciarli cadere nel vuoto ed approfondirle insieme a alcuni esperti e rilanciarle attraverso proposte di carattere culturale, sociale e anche, perché no, politico e legislativo. Questa è la nostra... perché riconosciamo in Papa Francesco un punto di riferimento unico nel mondo. Uno che anche a rischio della sua vita dice la verità, dice come stanno le cose in questo momento e in particolare come stanno le cose in temi gravi come sono quelli di un'economia che lui dice uccide. Un'economia fortemente in crisi quella della seconda rivoluzione industriale ed una totalmente differente quella della terza. Questo è il quadro che emerge dall'analisi dell'economista Jeremy Rifkin, cui anche lo stesso Papa Francesco ha fatto riferimento. Sull'analisi rifkiniana e su un diverso ciclo di vita dell'oggetto ha incentrato il suo intervento il dottor Mauro Porcelli. Proprio da qui che io partirei, proprio dal concetto del professor Rifkin che si sta occupando della terza rivoluzione industriale. Noi passiamo, c'è proprio una concomitanza con l'arrivo di Papa Francesco e la crisi della seconda rivoluzione industriale che era terminata dal petrolio. Quindi noi abbiamo avuto per decenni la gestione di una serie di prodotti segnatamente e lo sfruttamento della terra, l'utilizzo dei rifiuti nella maniera più sbagliata, quindi bruciando, seppellendo dei rifiuti, quindi una grande ricchezza che ha avuto un enorme costo per l'umanità, creando solo delle grandi ricchezze specifiche nei confronti di poche persone. E questo naturalmente è andato a cozzare violentemente sulle grandi masse. Quindi il concetto della terza rivoluzione industriale che è stato appunto sposato appieno da Papa Francesco, tant'è che di pochi giorni fa un articolo sul Times che parlava di questa sua grande, diciamo così, ispirazione proprio rispetto alle teorie del professor Rifkin. Quindi ecco, quello che noi vorremmo portare avanti in questa giornata così importante, diciamo così, e così commemorativa per l'onorevole Aldo Moro e segnatamente giornata importante anche, diciamo così, contro ogni forma di terrorismo. Proprio in questa occasione noi oggi alle 16.30 celebreremo un convegno presso l'Università della Nense dove si parlerà appunto di questi temi. Come si può evincere una nuova vita del rifiuto? Il concetto rifkiniano di Second Life è il punto di partenza dell'analisi presentata dal dottor Porcelli, alla cui base si trovano tre parole chiave, riduzione, riuso e riciclo. Il rifiuto prima di tutto è un bene patrimoniale. È patrimonio, è una proprietà dei vari comuni. Quindi pertanto andrebbe trattato come tale, quindi come patrimonio non dovrebbe essere un costo e quindi diventare una negatività in termini di bilancio, ma dovrebbe essere una risorsa. E siccome lo si può far diventare una risorsa, a questo punto diventerebbe una ripatrimonializzazione di beni pubblici che fino ad oggi hanno costituito, e questo è il principio rifkiniano, lo spiega nella perfezione e sposa appieno quelli che sono i concetti di Papa Francesco, andrebbe a risolvere delle problematiche che oggi rappresentano spesso anche motivazioni di default per tanti comuni perché hanno milioni, miliardi di debito proprio con aziende che trattano rifiuti. Quindi tornando a noi, è questo lo spaccato che noi vorremmo che fosse recepito dalle amministrazioni e quindi con un'indicazione, con una legge o comunque una modifica specifica alla legge. L'altra cosa che vogliamo invece sottolineare è che ci fa capire il problema vero, ce lo fa capire in maniera più forte, non solo quando ci arriva la bolletta a casa che rimane un problema all'interno delle singole famiglie, ma nel vedere molto spesso quelle ripetute riprese che ci sono spesso da parte della BBC, della RAI, piuttosto che di grandi televisioni dove fanno vedere queste enormi discariche all'interno delle quali in Brasile, in India e all'altro ci sono centinaia di bambini che rovistano tra i rifiuti per riuscire a trovare una parte organica da mangiare per sopravvivere. Ecco, noi dobbiamo invece aiutare questi bambini, aiutare quello che è appunto delle comunità a capire che il riutilizzo, il riuso e quindi creando anche delle filiere molto corte, quindi con dei mercati, attraverso quelle che sono anche l'utilizzo per esempio delle stampanti 3D. Oggi non molti sanno che le stampanti 3D possono utilizzare l'alluminio puro e attraverso questo riescono a rifare addirittura le turbine degli aerei, piuttosto che degli attrezzi che possono far parte di quelle che sono attrezzature medico-ospedaliere. Quindi noi veramente il rifiuto potremmo, eliminando quelli che sono dei dinamismi che fino ad oggi hanno solo comportato lo sfruttamento al massimo di questi prodotti, potremmo invece noi attraverso questa second life, questo concetto della second life, dare lavoro a migliaia, a milioni di persone, ricreare delle economie, creare dei grossi risparmi e quindi ripatrimonializzazione nell'ambito pubblico e quindi dare la possibilità, che ripeto è a cuore di Papa Francesco e quindi a cuore della nostra associazione, di coinvolgere a livello sociale quante più persone possibili distribuendo la ricchezza. Riprendendo ancora una volta le parole di Papa Francesco, il dottor Azzaro fa riferimento ad una dittatura invisibile. Nelle stragi dei migranti del Mediterraneo viene individuata una delle più gravi conseguenze attuali di questa dittatura. Una diversa gestione dei flussi migratori, a più ampio respiro e nella quale l'Italia non sia lasciata sola dal resto dell'Europa, diviene quindi un'esigenza sempre più urgente. Da qui deriva la proposta di Noi con Francesco per l'istituzione di un protettorato ONU in Sicilia. Papa Francesco parla di una dittatura invisibile, diversamente di quelle del passato, che erano visibilissime perché andavano avanti con i carri armati e con gli eccidi. Questa economia è invisibile, però ad un dato momento si rende visibile quando uccide, quando determina la morte delle persone. Un esempio davanti agli occhi di tutti oggi è la morte delle persone in mezzo al mare Mediterraneo. Quindi noi abbiamo preso il primo esempio di visibilità di questa economia che uccide, come le stragi nel Mediterraneo e ne abbiamo fatto una proposta concreta, affinché questa economia non uccida più almeno i giovani migranti. Una proposta che vuole un'istituzione di un protettorato ONU. Sia l'Italia, che è stata lasciata sola, ha fatto il massimo, ma l'Italia non ce la può fare da sola, sia l'Europa che è stata sorda a volte, a volte indifferente, a volte impotente di fronte a questi drammi umani. Bene, dato il fallimento di queste politiche è venuto il momento di portare l'ONU a Lampedusa, di realizzare un'assistenza di queste popolazioni da parte di un organismo internazionale, perché non è più possibile gestire con politiche nazionali o europee un tema che invece è internazionale. E quindi ci sarà una petizione popolare perché vogliamo che la gente dal basso approvi, apprezzi e sostenga questa proposta per realizzare da qui almeno a dieci anni un protettorato ONU che da Lampedusa e da Linosa realizzi le politiche internazionali che nell'Europa e nell'Italia riescono a organizzare, coinvolgendo dei paesi a livello mondiale, raccogliendo i fondi necessari per queste politiche e creando uno smistamento dei migranti non solo in Italia e in Europa, anzi, ma in tutti i paesi del mondo. Distribuendo e allocando i migranti in tutti i paesi del mondo si avrà la possibilità di non sovraccaricare le popolazioni civili nelle varie città italiane ed europee e quindi si avrà una maggiore possibilità di salvare queste persone e di ottenere per loro un futuro migliore.